Live e sicurezza sul palco. Spesso e volentieri molti di voi utilizzano dei computer per poter in qualche modo avere delle cose aggiuntive sul palco, per le tastiere, per i video, per gli audio e così via. Un problema che capita spesso a voi sicuramente è quello di avere dei rumori di fondo, dei rumori di massa, detto alla volgare. Quello è un famoso loop ground, ovvero una differenza di potenziali tra le varie masse che ci sono e quindi succede purtroppo questo. Questo è un cavo di un alimentatore di computer e molto spesso la gente per risolvere questo problema fa la cosa più assurda e più ignorante che possa esistere e mettere a rischio la propria sicurezza, ovvero tagliare la massa centrale che si risolve il problema del ground loop perché taglia la massa ma in questo modo se c'è un corto di fase voi se siete attaccati a quell'apparato e non siete ben isolati fate da massa e quindi ci lasciate le penne. Ora, per evitare questo piccolo inconveniente, vi conviene spendere una ventina di euro per comprare un affare tipo questo, un arm destroyer, che è praticamente un piccolo aggegino, all'interno ci sono due trasformatori che risolvono il problema della massa, come il rumore di fondo, e però non staccano le masse originali sui vostri apparati, questo significa che a fronte di un corto la massa si prende in carico il corto e lo scarica a terra o lo prende l'impianto e lo scarica a terra e voi siete salvi, sempre se c'è un salvavita a monte di tutto ciò. Comunque, spendete questi 20 euro per un affarino di tipo questo, arm destroyer, HD400 della Bellinger, ha dei buonissimi trasformatori e risolvete il problema e sicuramente state anche più sicuri sul palco. Un saluto a tutti da parte di Giulio e ci sentiamo alla prossima, ciao!